Le modalità per pagare l'IMU e entro quali date? Le modalità sono intanto venire qui da noi, noi facciamo tutti i calcoli. Le date per poter pagare l'IMU si riferiscono a quelle fissate a livello centrale dal governo che sono il 18 di giugno. 18 di giugno, sapendo che i comuni hanno la possibilità di modificare le aliquote che oggi sono ancora quelle base, ovvero 4 per mille per quanto riguarda la prima casa e 7.6 per mille per quanto riguarda la seconda casa, i comuni possono diminuire o aumentare questa aliquote e hanno tempo fino a settembre. A questo punto è possibile che per il contribuente di pagare il saldo, se le aliquote vengono modificate, a dicembre 2012. Chi ha bisogno di effettuare il pagamento dell'IMU quindi può rivolgersi al CAF? Chi ha bisogno di fare il pagamento dell'IMU su Torino si può rivolgere al CAF di Corso Brescia, ma si può rivolgere alla società attiva che è una delle nostre società, che fa esattamente i medesimi servizi che facciamo noi. Mi raccomando, raccomando ai cittadini, ci sono ancora pochi giorni davanti perché le scadenze, ripeto, sono il 18 di giugno tassativo, non abbiamo a questo momento ricevuto nessun tipo di consenso, le richieste di proroga che noi abbiamo fatto, potete venire quindi nella sede di Corso Brescia 53 al primo piano, prenotandovi telefonicamente o passando da noi e nelle varie altre sedi che troverete sul sito www.cafcgl.it.